La più breve di tutta la raccolta La briciola reale si avvicina a saltelli circospetti a beccare una briciola di pane quasi sotto il mio piede mentre aspetto seduto su una banca la corriera che mi riporta a casa dopo una notte insonnia in ospedale. Grazie di cuore per la compagnia. Grazie per non avermi intimorita. Grazie a tutti.